Oggi prepariamo insieme quella che sarà la vostra ricetta preferita per l'estate, un'insalata fresca di zucchine e salmone affumicato. Innanzitutto lavate e spuntate le zucchine, quindi affettatele a fette sottili con l'aiuto di un pelapatate o di una mandolina. Trasferite le zucchine in una ciotola, aggiungete un filo d'olio e mescolate. Grigliate le zucchine su una piastra calda, quindi trasferitele in un recipiente e copritele. Nel frattempo prepariamo l'emulsione per condire le zucchine e il salmone, quindi unite in una ciotola, il succo di limone, l'olio, il timo, il prezzemolo o la menta. Aggiustate di sale e pepe e mescolate. Versate parte del condimento sulle zucchine. Mescolate e lasciate insaporire per qualche minuto. A questo punto aggiungete il salmone affumicato. Aggiungete l'emulsione tenuta da parte e mescolate. Ed ecco che la nostra insalata di zucchine e salmone affumicato è pronta per essere servita e degustata. Perfetta per le calde giornate estive da assaporare in compagnia di amici o parenti. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima! Ciao!